Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per la presentazione del nostro progetto di legge la casa della comunità. Con questo progetto di legge noi vogliamo riportare al centro dell'attenzione quella che è la sanità territoriale e il ruolo degli enti locali rispetto a una tipologia di sanità gestita in regione Lombardia prevalentemente ospedaliera e in mano agli enti sanitari privati. Quindi nell'ambito della casa della comunità si richiama proprio quello che è il concetto della casa, dove c'è un luogo familiare in cui prendersi cura dei pazienti e della comunità, in cui è proprio la comunità locale che chiede e propone quello che è un luogo in cui i propri cittadini possano trovare tutte le cure di cui hanno la necessità. Un luogo che sia effettivamente e prevalentemente di tipo pubblico e non come la sanità ospedaliera che è prevalentemente privatizzata. Quindi si rilancia quello che è il ruolo degli enti locali che possono proporre alla SST di riferimento la costituzione della casa della comunità. Nell'ambito della casa della comunità troveranno la loro collocazione e le professionalità sanitarie del territorio. In primo luogo i medici di medicina generale, il pediatra di libera scelta, l'infermiere di comunità, i medici della continuità assistenziale, le prestazioni dei servizi sociali e anche tutte quelle forme di volontariato come possono essere il sistema di emergenza e urgenza oltre alle forme di assistenza domiciliare integrata. Nell'ambito della casa della comunità si prevede proprio che questo possa essere il primo centro in cui fornire quelle che vengono definite cure primarie. Quindi anziché il cittadino doversi recare per esempio per i codici bianchi e i codici verdi a pronto soccorso, troverà la possibilità di andare nell'ambito della casa della comunità sempre aperta e sempre disponibile con dei professionisti anche specializzati che possono fornire quelle che sono tutte le cure di cui i cittadini hanno la necessità perché nell'ambito della casa della comunità potrebbero trovare anche collocazioni quelle che sono anche le prestazioni specialistiche. Il tutto ovviamente coordinato con la SST di riferimento. È proprio qui che è la peculiarità della casa della comunità che viene creata dalla SST insieme ai sindaci, insieme ai comuni proprio perché si vuole valorizzare quello che è il concetto di comunità locale. La sanità deve essere territoriale e i cittadini devono poter trovare nel proprio territorio la gran parte delle cure di cui hanno bisogno. Nell'ambito della casa della comunità potranno trovare anche quella che è la loro cura, anche i pazienti cronici che lì potranno procedere con quelle che sono non solo le loro cure principali, anche tramite la telemedicina, ma soprattutto avere la possibilità di avere le prenotazioni delle visite in quello che è la loro annualità di cura praticamente. Quindi la casa della comunità si propone proprio come punto e centro di riferimento per cercare di coordinare quelle che sono tutte le prestazioni sanitarie di cui necessita un paziente cronico che poi nell'ambito della sua diversa tipologia di patologia potrà trovare poi delle cure specifiche in quelle che sono le altre forme della sanità della regione Lombardia come possono essere le prestazioni specialistiche ambulatoriali o addirittura nei casi più gravi quelle ospedaliere. Quindi soprattutto con la casa della comunità non vogliamo rilanciare il concetto di territorio, di sanità pubblica e di partecipazione dei cittadini. Grazie a tutti voi.